C'erano proprio tutti, giornalisti della carta stampata, della radio e della televisione, insieme allo staff tecnico del Bari, al circolo tennis di Bari per il triangolare in memoria di Gianluca Guido, capo servizio sport della nuova Basilicata, scomparso dieci anni fa in un incidente stradale tra Altamura e Toritto. Colleghi e amici si sono stretti, a dieci anni di distanza, intorno ad Antonio Guido, padre di Gianluca, ricordandolo nel modo migliore possibile, giocando a calcio. Lo sport è fratellanza, amicizia, sicuramente questo sarebbe piaciuto a Gianluca, ricordare a tutti, anche nei momenti in cui negli stati invece affiorano immagini di violenza, anzi vivono immagini continue di violenza. Discrete le prestazioni dei giocatori in campo, tra cui l'ex arbitro internazionale e ora assessore del comune di Bari Gianluca Paparesta e l'ex calciatore bianco-rosso Antonio Di Gennaro, ma soprattutto il tecnico del Bari Gian Piero Ventura, uscito dal campo ben presto per un infortunio molto diplomatico. È già molto che sono riuscito a mettermi i calzettoni, ho cercato, ho giocato con il cuore, ho giocato per il mio allenatore, che è Luciano Tarantino, ho cercato di fare del mio meglio e poi vedendo che eravamo in svantaggio sono uscito e puntualmente la squadra ha subito pareggiato, quindi ho confermato di capire di calcio facendomi uscire.